settimana rossa per Bitcoin e le criptovalute, sono successi alcuni eventi che probabilmente hanno influito su questo ribasso del prezzo delle cripto in generale, questi eventi li andiamo a vedere fra poco insieme, oltre a questo andiamo a vedere anche altre news che riguardano altre criptovalute, benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Tutto quello che vedi in questi video naturalmente sono solo opinioni personali, non sono da intendersi in nessun modo consigli finanziari, in questo momento Bitcoin si trova all'incirca a 41.800 dollari, come al solito inviola le aree di supporto e di resistenza, in questo momento ci troviamo in questa fascia, vedremo come andrà alla settimana, abbiamo visto comunque sia Bitcoin perdere diverse posizioni, infatti se noi andiamo a vedere da inizio, praticamente dal top, dall'all time high, vediamo che in Bitcoin è arrivata a perdere un 41% come bottom temporaneo, adesso naturalmente che cosa avverrà non lo sappiamo, però possiamo farci un'idea andando a leggere alcune notizie e vedendo alcuni grafici. Prima di far ciò andiamo a vedere come è andata la settimana delle criptovalute in generale, eccoci infatti su CoinMarketCap, Bitcoin questa settimana ha perso un 11%, Ethereum ben un 17%, anche male BNB e Solana con 16,18%, Cardano continua la discesa insomma, perché c'era stata una settimana fa, sembrava che stesse riprendendo, ma nulla da fare, per quanto riguarda Luna perde un 22%, e anche AVAX un 20%, ma nelle settimane passate abbiamo visto che hanno avuto dei grandissimi rialzi, Polkadot perde un 15%, c'è il link invece molto bene perché è stata una delle poche in positivo e positivo anche in maniera importante, visto che ha fatto un più 25%, 13% in negativo per Algorand, per quanto riguarda Cosmos invece tiene botta con un 2,66% di perdita, ma naturalmente poteva andare molto peggio. Bene, molto bene anche Internet Computer con più 37%. Che vuoi capire che cosa è successo? Ci aiuta Chiara Di Cristofalo del Sole 24 ore, dice che ci sono stati appunto dei ribassi dovuti al rilascio dei verbali della Fed che hanno scatenato dei sell off sugli asset più rischiosi, i quali hanno penalizzato sia il settore tech che il settore delle criptovalute. Secondo questo articolo sembra che Bitcoin e le criptovalute seguono sempre più l'andamento dei titoli tecnologici. Quindi uno dei motivi del caldo di Bitcoin è stato proprio questo report nel quale hanno annunciato che saranno incrementati i tassi di interesse, dovrebbero essere rilasciati in tre step durante questo anno. Oltre a questo ci sono state anche delle proteste in Kazakistan che adesso andremo a vedere, le quali hanno anche ridotto in una percentuale considerevole l'ashrette di Bitcoin. Quindi il governo kazako si dimette, chiude internet tra le proteste facendo crollare l'ashrette di Bitcoin del 13.4%. Questo è successo perché è stato probabilmente staccato internet direttamente a tutto il paese. Questi tumulti in Kazakistan sono scoppiati dopo che c'è stato questo forte aumento dei prezzi del carburante. Il governo ha chiuso internet e ha fatto precipitare l'ashrette di Bitcoin. Vediamo cosa ci dice invece questo articolo di Milano Finanza. Si dice che la Fed anticipa la chiusura del suo programma di acquisto di obbligazioni a marzo anziché a giugno aprendo la possibilità di iniziare ad aumentare i tassi nello stesso mese. Quindi questo significa che naturalmente oltre al discorso dei tassi di interesse c'è anche il discorso del tapering e quindi diciamo una serie di motivazioni che hanno fatto sì che Bitcoin potesse scendere. Oltre a questo non ci scordiamo il discorso del Covid. Quindi per quanto riguarda Bitcoin non sembra proprio essere il migliore dei momenti ma è proprio da qui che bisogna a mio modo di vedere ripartire e ci arriviamo subito. Perché? Perché vi faccio vedere questo grafico. Questo grafico è il Bitcoin Fear and Greed Index, ossia l'indice di paura e di avidità di Bitcoin. Solitamente quando questo numero è basso significa che c'è molta paura, quindi extreme fear. Quando questo numero è verde c'è estrema avidità. Quando questo numero arriva intorno al numero 10, insomma quindi arriva in extreme fear, solitamente c'è sempre stato un rimbalzo al rialzo del prezzo di Bitcoin e conseguenzialmente anche delle altre criptovalute. E questo è quello che bisogna naturalmente fare. Probabilmente non è sempre un consiglio finanziario ma è quello che bisogna fare in questi momenti. In questo caso bisogna completamente ragionare fuori dagli schemi, fuori da quello che fa la massa. Bisogna fare quello che fanno gli istituzionali e gli investitori professionisti. Che cosa fanno? Quando c'è paura estrema loro comprano, quando c'è estrema avidità loro vendono, ossia esattamente l'opposto di quello che ti potrebbe passare per la testa emotivamente. Perché? Perché noi siamo esseri umani, perché siamo emotivamente convolti riguardo i nostri investimenti. Ecco questa è la cosa più sbagliata da fare. Bisogna ragionare esattamente all'opposto. Potrebbe continuare a scendere Bitcoin? Certo, potrebbe continuare a scendere. Ragazzi, ma non tentate di cercare il bottom, perché quando pensi che sia il bottom non ti preoccupare che scende ancora un altro po'. Perché non si ragiona così? Non si ragiona a cercare di comprare al prezzo più basso, ma si ragiona, a mio modo di vedere, per comprare a buoni prezzi. Non è indispensabile che questi prezzi siano stracciati, ok? Soprattutto se non ha una visione più a lungo termine. Se invece fate del trading giornaliero, dello scalping, piuttosto che insomma delle operazioni veloci, quello è tutto un altro discorso, ma naturalmente qui sto parlando per quanto riguarda gli investitori. Fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Andiamo a vedere qualche altra notizia bearish, questa qui secondo Arthur Reyes, l'ex CEO di BitMEX, il quale ci dice che, secondo lui, insomma, visto tutto quello che ci siamo detti in precedenza, visto l'interruzione che è avvenuta in Kazakistan, visto che gli Stati Uniti hanno spento le stampanti di denaro, quindi hanno smesso, vogliono smettere con questa inflazione, dovrebbe riportare il prezzo di Bitcoin intorno ai 30.000 dollari. Questo potrebbe avvenire certamente, come detto, a me personalmente non interessa. E se dovesse capitare, significa che sarà sicuramente una occasione migliore di acquisto. Questo per quanto mi riguarda, ok? Passiamo invece a un altro articolo di Helen Parts, sempre del Cointelegraph. Bloomberg Intelligence, Bitcoin ed Ethereum raggiungeranno i 100.000 dollari e i 5.000 dollari nel 2022. Questo secondo l'anatista Mike McGlove di Bloomberg Intelligence, mentre per quanto riguarda BNB e Solana potrebbero subire significativi ribassi nel corso dell'anno. Un punto chiave che vediamo è la Federal Reserve che sta affrontando la più grande inflazione degli ultimi 40 anni, più inclina ad alzare i tassi di interesse se gli asset rischio continuano a crescere. I cryptoasset sono tra i più rischiosi e speculativi, ma la primissima criptovaluta sta rapidamente passando a diventare l'asset di riserva mondiale. E altra cosa importante questa, il possibile rialzo degli interessi del 2022 da parte della Fed potrebbe supportare uno scenario win-win per Bitcoin che godrebbe di prestazioni migliori rispetto al mercato azionario. Quindi questo che significa? Significa che Bitcoin è stato, sta diventando, diventerà, insomma non lo so, io credo fortemente in questo, che diventerà una riserva di valore mondiale e qualora fosse così significherebbe vedere davvero il prezzo di Bitcoin andare alle stelle. Secondo lui ci dice che dovrebbe arrivare a 100.000 dollari, questo naturalmente non invalida la teoria che abbiamo visto prima dell'ex CEO di BitMEX. L'ex CEO dice semplicemente che potrebbe arrivare a 30.000 e poi potrebbe risalire e lui dice semplicemente che arriverà a 100.000, quindi una non invalida l'altra. Naturalmente ragazzi di me qui tirano tutti a sorte anche perché per quanto riguarda Brock, Pierce e Tom Lee dicono che Bitcoin nel 2022 arriverà a 200.000 dollari. Quindi questo per farvi capire che nessuno prevede il futuro. Qui ci sono investitori istituzionali, investitori importanti, trader, professionisti e ognuno dice la sua e guarda caso poi nessuno, cioè ognuno ha sempre una storia differente insomma dall'altra. Su una cosa sembrano esserlo d'accordo quasi tutti che sul lungo termine Bitcoin dovrebbe andare molto bene. Quindi ragazzi miei non vi preoccupate da oggi a domani, a dopo domani. Poi amici me se non credete nel settore delle criptovalute è tutto un altro discorso, ma se ci vedete non vi fate influenzare da queste cose, da questi ribassi, di questi rialzi, cose varie. Vi vedete la serena a mio modo di vedere. Se ve la vivete male, ok, è perché probabilmente avete investito più di quanto siete disposti a perdere. E questa è un'altra cosa che assolutamente non si fa. È pur vero che nessuno guadagna tanto, a un certo punto gli dovete perdere i propri profitti. Ci sta anche questo. Ragazzi qui è sbagliata robetti della strategia, ma è un altro discorso. Andiamo avanti, ok? Andiamo a vedere adesso, finite le notizie riguardanti Bitcoin, andiamo adesso a vedere le notizie riguardanti qualche altcoin. Ci sarà la nuova release 4.6.0 che riguarderà sia la testnet che la mainnet di Zcash, quindi un'implementazione che riguarda la criptovaluta Zcash. Per quanto riguarda Sandbox ci sarà un'altra vendita di terre, di land. Ci saranno 61 land in vendita, 95 premium land e 7 estates. Andiamo a vedere che cosa ci dice, l'ho già aperto in precedenza. Torniamo su. Quindi ci sarà questa vendita che partirà il 13 gennaio a luna PM UTC, quindi alle 14 ora nostrana. Sarà possibile acquistare queste terre con i token SEND. Naturalmente bisogna avere anche degli Ethereum per pagare le gas fee. Se volete avere magari maggiori informazioni vedetevi questo articolo. C'è anche un video su YouTube che spiega come si possono acquistare le terre e i requisiti. Quindi se siete appassionati di Sandbox oppure semplicemente volete credere in questo metaverso e volete magari aggiudicarvi una terra su Sandbox, andate ad approfondire voi stessi. Per quanto riguarda invece Currido, abbiamo visto in un video precedente insomma quando è stato lanciato su Coinlist, adesso ci sarà il rilascio dell'option 2 per chi si è giudicato l'option 2 su Coinlist e avverrà il 14 gennaio. Qui ci dice l'articolo come fare per fare il claim, ossia arriveranno direttamente per email, istruzioni per come fare il claim di questi QR di O, di questi Currido, per eventualmente insomma quindi venderli piuttosto che averli nel proprio wallet. Questa attualmente è una notizia che potrebbe riguardare i possessori di Currido a breve termine, perché naturalmente potrebbe aumentare la selling pressure, visto che vengono lasciati più Currido in circolazione. Probabilmente quelli che li hanno acquistati qualcuno di loro vorrà trarre profitto. Ed era Ashgraf è stata utilizzata dal Regno Unito, sono stati dei test effettuati a Porta Montrose in Scozia e alle Cranfield University nel Bedfordshire, rispettivamente aprile ed ottobre. Praticamente che cosa è successo? È stata utilizzata questa blockchain per raccogliere, memorizzare e ordinare milioni di data point in una raccolta di dati eseguita da droni sovvenzionata dal governo del Regno Unito. Quindi abbiamo reso possibile il viaggio dei droni senza equipaggio a lunga distanza utilizzando un'infrastruttura aeronautica critica per la sicurezza. Ogni volo crea milioni di data point che nessun altro registro pubblico è stato abbastanza veloci da registrare e ordinare correttamente. Mentre, sembra ci sia riuscito brillantemente Edera Ashgraf. Per quanto riguarda Edera, se non lo conosci, è un network pubblico ad alta sicurezza con tecnologia Ledger distribuita basata su un algoritmo Proof of Stake. Edera ha stabilito una serie di collaborazioni per integrare la tecnologia blockchain in applicazioni del mondo reale in diversi settori. Sapete come la penso io? Chi si avvicinerà di più al mondo reale per quanto riguarda il futuro, a modo di vedere, la vincerà. Ce ne saranno tante di piattaforme che vorranno competere per questo e non sarà sicuramente solo esclusivamente una. Ad ogni modo, Edera Ashgraf entra nei miei radar, inizierò seriamente a seguirlo. Seguirlo e comprarlo ragazzi miei è diverso. Questo lo tengo semplicemente a precisare perché altrimenti magari ognuno dice insomma la sua. Voi più che altro se conoscete o seguite Edera, fatelo magari sapere qua sotto nei commenti, magari se avete maggiori news anche per informare gli altri. Io non ho mai approfondito, adesso inizierò a farlo. Per quanto riguarda le ultime notizie, la Disney brevetta la tecnologia per un parco a tema in metaverse, insomma quindi una sorta fra reale e virtuale. Questo però non credo che rientri assolutamente con le criptovalute, benché insomma, e noi ormai parliamo di metaversi e criptovalute, le mettiamo insieme, ma talvolta insomma c'è anche la vita normale che non c'entra nulla con il settore delle criptovalute. Invece per quanto riguarda Samsung, Samsung in questo caso sì, perché ha lanciato il proprio negozio dentro Decentraland, quale replica un negozio situato a Washington Street in New York City, quindi ha acquistato giottamente una terra su Decentraland e ha realizzato il proprio negozio. Questa invece è una cosa carina per Samsung che non vuole perdere diciamo il filone degli NFT, il filone delle criptovalute. Dopo, subito dopo, insomma, la notizia che ha lanciato anche gli NFT per quanto riguarda la possibilità di acquistare NFT con le sue Smart TV. Vieni anche a trovarmi sui social, sotto in descrizione del video trovi tutti i link ai canali social come Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Oltre a questo se il video ti è piaciuto magari lasciami un bel like. Ci vediamo al prossimo video del Marchese del Cripto. Ciao e buona giornata.